Buongiorno a tutti! Eccoci dunque a un nuovo appuntamento dedicato alla storia e all'arte di Sassuolo. Oggi voglio parlarvi di un oggetto custodito all'interno delle raccolte civiche d'arte e storia della nostra città. Sassuolo infatti non ha un vero e proprio museo civico, tuttavia possiede un cospicuo patrimonio di circa mille pezzi tra opere d'arte, arredi e altri oggetti di valore storico che è conservato all'interno di diverse sedi della municipalità, venendo a costituire quindi una sorta di ideale museo diffuso sparso all'interno del nostro territorio. e al quale recentemente l'amministrazione comunale ha proprio voluto dare una propria identità grazie alla realizzazione di apparati didattici, di didascalie e di altri elementi che in qualche modo possono permetterne meglio la fruizione, soprattutto all'interno della sede principale, quindi del municipio di via Fenuzzi. In particolare oggi voglio parlarvi della settecentesca pace in argento con custodia linea. La pace o tabula pacis o osculum pacis o osculatorium, da latino osculum, cioè bacio, è un oggetto liturgico che si diffonde in Europa a partire dal XIII secolo e che si continuerà ad utilizzare fino al XVIII secolo. Le paci erano tavolette, di solito realizzate in materiali preziosi come l'oro, l'argento oppure dipinte su vetro, che venivano offerte al bacio durante lo scambio della pace. In antico infatti questo momento che oggi prevede nella nostra liturgia lo scambio della pace attraverso la stretta di mano, veniva ad essere realizzato attraverso lo scambio di un bacio. Queste tavolette dunque, che di solito erano fornite anche di un manico che permetteva di sostenerle sull'altare come se fossero dei porta fotografie, e ne vediamo un esempio nel famoso affresco della messa di Bolsena del 1512 di Raffaello, grazie a questo sostegno potevano essere anche tenute in mano dal sacerdote e appunto offerte al bacio dei presenti all'interno del presbiterio. Si tratta dunque di oggetti che solitamente erano utilizzati per celebrazioni piuttosto importanti e particolari, come ad esempio le feste patronali. Noi oggi possiamo parlare quindi di un oggetto che ha una straordinaria valenza storica, soprattutto per il suo insieme ancora unitario. La pace in argento settecentesca delle raccolte civiche d'arte del comune di Sassuolo infatti presenta ancora la sua custodia, linea originale con lo stemma di Sassuolo. Difficile dire chi sia l'autore di questa opera, realizzata come riporta la data che troviamo in un'iscrizione all'interno della custodia nel 1773. Certo possiamo dire che anche a Sassuolo è testimoniata una cospicua attività di argentieri. Sappiamo infatti che nel 1758 venne ad operare a Sassuolo un certo Gian Battista Terrazzi che proveniva da Ginevra e che veniva a sostituire, poiché era deceduto, un altro orafo argentiere, Gaetano Barchi. La pace di Sassuolo ha uno sfondo realizzato in lamina d'argento lavorato a Sbalzo e a Cesello sulla quale è posta la figura di Cristo, realizzata invece in fusione d'argento. L'iconografia del Cristo vivo è tratta dai celebri prototipi in pittura di Guidoreni e in particolare dalla Crocifissione dei Capuccini del 1617-1618 e da tutte le versioni successive, tra le quali va annoverata anche la bellissima crocifissione della Galleria Estense del 1639. L'iconografia fu poi proposta anche in scultura grazie al celebre prototipo in bronzo realizzato nel 1646 da Alessandro Algardi. Altra notazione iconografica importante da ricordare è quella della raffigurazione del Golgotha, che nella pace di Sassuolo viene ad essere rappresentato nella forma di tre monti, rievocando dunque lo stemma di Sassuolo e stringendo quindi con il territorio un legame profondo e molto stretto. Anche se l'opera non è tra le testimonianze più raffinate della produzione in argenteria del Ducato Estense, si tratta comunque di un oggetto di grande eleganza e raffinatezza, che porta seco quei segni tipici dello stile e del gusto rococò. Io dunque vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi mi avete voluto dedicare e, augurandovi buona Pasqua, vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie, ciao! Grazie a tutti!